Amici eccoci ancora una volta puntualissima l'appuntamento con Italmotor, ancora una volta con tante sorprese e novità perché ormai siamo vicini alla primavera, siamo vicini all'estate e con tante vetture che sono appena arrivate e Massimiliano è pronto per noi. Ciao Cesare, un benvenuto a tutti voi, detto proprio bene, pronti con vetture nuove, vetture aziendali, vetture chilometri zero, vetture d'occasione tutte con sconti pazzeschi con la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, piccolissime le rate mensili comprensive anche di assicurazioni, incendio, furto e attivo andalici. Allora come sempre carta e penna, seguiteci. E cominciamo subito con New Ypsilon 1.3 Multijet 95 cavalli, Euro 5 con pochissimi chilometri e soprattutto garanzia ufficiale lancia, dal climatizzatore all'ABS, 4 airbag, servo stairs, autoradio con CD ed MP3 e tantissimi altri optional presenti su questa autovettura che sarà vostra a soli 11.500 euro. Alfa Romeo Multijet 1.395 cavalli, allestimento Distinctive, vetture immatricolate nel 2013, quindi garanzia ufficiale Alfa Romeo Mito 1.3 Multijet 95 cavalli con climatizzatore, ABS, 6 airbag, CD ed MP3, vetture full optional dai cerchi Lega, le porterete via a partire da soli 13.500 euro. 13.500 euro per un Alfa Romeo Mito 1.3 Multijet 95 cavalli. Lancia Musa 1.3 Multijet 95 cavalli, allestimento Ego, dai fendi nebbia ai cerchi Lega, dal climatizzatore all'ABS, 4 airbag, autoradio con CD ed MP3, immatricolata a dicembre 2012, garanzia ufficiale lancia, sarà vostra a soli 11.900 euro. Fiat Cubo 1.3 Multijet 75 cavalli, allestimento Dynamic, chilometri solamente 14.000, immatricolato a luglio 2012, quindi garanzia ufficiale Fiat, sarà vostra a soli 11.800 euro. Un'autovettura corredata di climatizzatore ABS, 4 airbag, servo, sterzo, autoradio con CD e cruise control, l'avete capito bene il prezzo, 11.800 euro. Solamente 30.000 i chilometri percorsi, parliamo di Peugeot Expert, 1.6 HDI, immatricolato nel 2011, climatizzato, che porterete via soli 8.900 euro più IVA. E parliamo di Fiat Punto, 1.2 5 porte, allestimento Lounge, pochissimi chilometri percorsi, immatricolata nel 2013, la porterete via con una rata piccolissima che parte, pensate da soli, 89 euro al mese. E torniamo a parlare di Alfa Romeo Mito, questa volta parliamo di un 1.6 Multijet, 120 cavalli allestimento Distinctive, compact premium, dal climatizzatore automatico Bizone ai sensori parcheggio, dai cerchi Lega, l'ABS, i 6 airbag, l'autoradio con CD ed MP3, sarà vostro a soli 10.900 euro. E parliamo di Fiat Panda, New Panda, 1.3 Multijet, 75 cavalli, 4x4, vetture aziendali disponibili in diversi colori e diversi allestimenti, a partire, pensate da soli, 13.500 euro. Toyota Ego, 1.5 porte, 40.000 solamente in chilometri percorsi, con climatizzatore, sarà vostra a soli 4.900 euro. E continuiamo con Fiat 500, 1.3 Multijet, diversi colori disponibili qui in Italmotor, un in particolare 1.3 Multijet, 95 cavalli, allestimento Lounge, con tetto in vetro apribile, ESP, fendi nebbia, cerchi Lega, climatizzatore automatico Bizona, a soli 12.500 euro. Un'autovettura che ha percorso pochissimi chilometri, garanzia ufficiale Fiat 12.500 euro. In più vi ricordo la possibilità di finanziare l'intera cifra su questa autovettura, come su tutte quelle che state vedendo in trasmissioni, con piccolissime rate mensili e in più con la possibilità anche di inserire l'assicurazione per 5 anni, incendio, furto e atti vandalici, il tutto in una piccolissima rata mensile. E continua la grandissima promozione su Fiat Panda 1200 Dynamic, vetture aziendali, pochissime le unità rimaste, quindi affrettatevi, vetture aziendali, come dicevo, immatricolate nel 2011, pochissimi chilometri percorsi, dal climatizzatore ABS, doppi airbag, servo sterzo, auto radio con CD, saranno vostre a partire da soli 5.900 euro. E diversi colori e diversi allestimenti anche per quanto riguarda le Fiat Punto e soprattutto diverse le motorizzazioni, un in particolare un 1.200 allestimento Easy, 5 porte immatricolate nel 2013, pochissimi chilometri percorsi, le porterete via a partire pesate da soli 7.900 euro. E non mancano le Panda 4x4, 1.200 climatizzate a partire da soli 6.500 euro. E non mancano le 500 L, qui a disposizione in Italmotor parliamo di un 1.300 Multijet, 85 cavalli, Popstar allestimento, dei cerchi lega al climatizzatore ABS, 6 airbag, auto radio con CD MP3, porta USB, Bluetooth, tantissimi gli optional, immatricolata nel 2013, garanzia ufficiale Fiat, pochissimi i chilometri percorsi, sarà vostra a soli 14.850 euro. E non solo Fiat, qui in via stradello 82 parliamo di una Suzuki Splash 1000 GL, dal climatizzatore all'ABS, doppio airbag, servo sterzo, auto radio con CD ed MP3, un'autovettura full optional, chilometri zero, la porterete via a soli 8.900 euro. Avete capito bene il prezzo? 8.900 euro per un'autovettura nuova, appena targata. Sportivissima Abarth 595 cabrio, 1.400 turbo, 160 cavalli, dall'interno in pelle ai cerchi da 17, dai fari all'oxeno, un'autovettura praticamente full optional, solamente 11.000 i chilometri percorsi, sarà vostra a 21.500 euro. 14.500 euro, avete capito bene? 14.500 euro il prezzo di questa Alfa Romeo Giulietta, 2.000 Multijet, 140 cavalli, immatricolata nel 2012, garanzia ufficiale Alfa Romeo con navigatore satellitare integrato, climatizzatore automatico, cerchi, lega ABS, SRDSP e tantissimi altri accessori. Avete capito bene? Il prezzo è 14.500 euro. E concludiamo con una Panda, New Panda, 1.300 Multijet, 75 cavalli, 4x4 qui all'Italmotor a partire da 14.900 euro. E purtroppo anche oggi il tempo si è esaurito, Massimiliano, però ricordiamo ancora gli indirizzi importanti Italmotor. Certamente, via Stradella 82, via Cardinal Massaia numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Grazie, come sempre all'inizio della regia, arrivederci.